Mangiare burger in un container navale? È possibile a Roma Sud. Ad Acilia apre il primo Cargo Burger Lab della capitale, una fucina culinaria di burger gourmet abbinati ad oltre 40 etichette di birre artigianali. E noi li abbiamo provati! Una location suggestiva e familiare, con un giardino all'aperto e arredata con elementi di recupero, oggetti provenienti da vari mercatini e anche da contesti internazionali, come questo scrittoio inglese con ancora le incisioni degli studenti. Cargo Burger Lab nasce, il nome lo prende, dal container che abbiamo deciso di inserire all'interno di questa segheria. Cioè un container intero dove all'interno è stata costruita la nostra cucina. Quella è la targa originale di questo container. Quella targa identifica il viaggio che il cargo ha fatto nella sua storia. Il nostro famoso divano verde viene da una villa sul litorale romano. Ci siamo innamorati subito e volevamo creare un punto iconico dove le persone, prima di andare via, potessero farsi il famoso selfie dopo aver mangiato e essersi divertiti. Con originalità e qualità, Cargo Burger vuole essere un viaggio di sapori che porti a provare delle emozioni e a trascorrere una piacevole serata.